Diciamo l'organizzazione ospedaliera con liste d'attesa lunghissime per la specialistica, con ticket odiosi sempre più pressanti, addirittura in Toscana ci sarà un ticket sulla digitalizzazione che non è neanche legato al reddito, è uguale per tutti, che serve per tappare un buco di 300 milioni, che è l'attuale risparmio che cercano di proporci e che è l'equivalente del buco di massa, dove sappiamo ancora che la magistratura non è riuscita a definire ancora le varie responsabilità di quell'ammanco così grave, ecco io credo che i cittadini cominciano a essere davvero preoccupati di questa idea che porterà sicuramente i cittadini a dover scegliere il privato perché nel pubblico non troverà delle risposte, di questo siamo molto preoccupati. Questa storia francamente dell'asla di massa che è un mantra che ormai da tempo tutte le opposizioni da destra e da sinistra tirano fuori una situazione complessiva della sanità in questo paese, dove regioni importantissime come il Lazio per esempio sono commissariate, insomma a questo punto credo abbia anche un po' stancato. Quel deficit lì è già stato risolto, adesso i bilanci dell'azienda sanitaria di massa sono assolutamente impari e la sanità toscana è quella che ha certificato prima delle altre i bilanci e quindi insomma mi pare che quell'episodio possa dirsi concluso e ormai non si possa continuare a giudicare la sanità toscana come il famoso buco di massa. Grazie a tutti.